io vorrei parlare della piramide del nutrimento emozionale per chi è genitore dico queste informazioni sono particolarmente utili a voi per chi è maestro sono utili anche per lui il consiglio che vi do e se siete maestri ora partite magari se non avete mai sentito da questo che vi dirò io adesso però approfondite questo strumento, questo argomento e accompagnate i genitori a essere consapevoli di quello che accade di quanto è importante, fondamentale occuparsi dei bisogni emotivi dei bambini soprattutto nei primi anni di vita, nella fascia dell'età 03 è veramente importante perché fare bene quel momento là, dare una risposta ai bisogni emotivi dei bambini è la migliore garanzia per avere persone felici nel futuro la fascia dell'età 03 è veramente cruciale Freud diceva che durante i primi sei anni di vita i bambini costruiscono delle mappe emotive e cognitive fondamentali e propedeutiche per tutto lo svilupparsi della vita futura le neuroscienze che stanno addi a Freud Freud sei sicuramente un geniaccio e tu hai studiato sicuramente preziosi ma in realtà quest'arco temporale è 0-3 anni quindi nei 0-3 anni i bambini hanno dei bisogni emotivi molto importanti che debbono trovare risposta che cos'è la piramide del nutrimento emozionale? tanto sottolineo il fatto che anche non ci nutriamo solo dei cibi ci nutriamo anche dei emozioni i bambini vanno accompagnati e sostenuti io parlo di piramide e come me Lucas Malaisi che è lo psicologo che me l'ha presentata nel corso che ho fatto con lui perché c'è un piano inferiore che ha una base più grande e che costituisce il punto d'appoggio di tutte le altre cose dovremmo cominciare a lavorare dal piano inferiore dalla base per permettere alla piramide di sostenersi ora alla base come primo bisogno emotivo dei bambini in particolare nei primi mesi di vita, nei primi anni di vita anche se poi in realtà questo bisogno noi ce l'abbiamo fino ai 120 anni ma questa fascia d'età è particolarmente importante se non trova risposta al bambino al bisogno di amore poi risulta molto più complicato ce lo spiegava anche oggi Marina faceva la differenza tra il cortisolo e l'ossitocina l'ossitocina è quel neurotrasmettitore che noi produciamo attraverso le relazioni empatiche la cura, gli abbracci, le parole dolci e noi produciamo ossitocina e quando produciamo ossitocina riusciamo a parte la sensazione di benessere il nostro cervello funziona meglio e apprende in maniera integrale l'esperienza che sta vivendo quando invece produciamo cortisolo il cortisolo lo produciamo quando siamo stressati quando viviamo situazioni che non ci fanno star sereni in realtà noi apprendiamo ben poco e sentiamo un certo malessere è un bisogno fondamentale del bambino quello di sentire la presenza degli adulti intorno a lui ma non una presenza, un corpo che sta lì una presenza, una partecipazione emotiva un accompagnamento consapevole ai bisogni dei bambini quindi i primi mesi è fondamentale il bisogno di contatto attraverso cui noi comunichiamo con le nostre cellule col battito del nostro cuore comunichiamo le nostre emozioni sosteniamo il suo bisogno di contatto ma in generale in tutta la fascia d'età dei primi mesi, dei primi due, tre anni è veramente fondamentale che il bambino intorno a sé trovi un clima di ascolto e di accettazione incondizionata di quello che è ed è particolarmente importante evitare il giudizio soprattutto in questa fase qua quindi l'amore sta alla base di questa piramide al secondo strato una volta che il bambino si è nutrito d'amore e può contare su queste radici qua sono tre le altre cose su cui possiamo lavorare in parallelo ribadisco l'amore è la base se non viene soddisfatto questo bisogno qua quello che accade è che noi lo cerchiamo per tutto il resto della nostra vita e poi è difficile trovarlo è molto più complicato trovarlo da adulti e come che rimaniamo bloccati in quella fase lì i bambini ma questo ci stanno diverse ricerche ne abbiamo parlato l'altra volta ve li ricordate Rene Spritz Robertson tantissime ricerche che dicono che i bambini che hanno carenza di amore in questa fascia d'età hanno grosse difficoltà relazionali di autostima insicurezza ansia che per carità si possono sempre guarire tutte queste cose però richiedono uno sforzo più grande allora il messaggio che io voglio dare a voi famiglie e a chiunque educhi è meglio occuparcene prima e prevenire perché è più semplice è più efficace piuttosto che occuparcene dopo quando magari si manifesta un disagio e mi permetto pure di dire che questo lo dico da papà da papà che in questo momento a casa c'è un bambino di 12 mesi e che amare essere presenti nelle grandi conquiste che avvengono in questa fascia d'età è un dono innanzitutto per noi i bambini ci fanno da specchio ci rimandano tante cose e questo scambio amoroso è veramente un qualcosa che ci nutre che ci fa sta bene che ci arricchisce come persone il secondo livello della piramide la prima parola chiave si chiama frustrazioni e parto da questa in relazione ai tempi che stiamo vivendo perché viviamo un tempo in cui l'iperprotezione è un fenomeno abbastanza diffuso e allora che succede? noi di base a guidarci la paura dalla paura scatorisce una mancanza di fiducia nei confronti dei bambini anche se magari di questo non ne siamo consapevoli e però cerchiamo di creare intorno al bambino delle situazioni iperprotette e andiamo in allarme e ci preoccupiamo allora quando un bambino vive delle frustrazioni cioè vi vorremmo prevenire le frustrazioni dei bambini no? questo non fa bene ai bambini le uniche frustrazioni che dobbiamo risparmiare ai bambini sono quelle traumatiche e quelle perenniche che sempre si ripetono dopodiché la frustrazione è una grossa opportunità di crescita per il bambino e gliele dobbiamo far vive io vorrei addirittura elaborare la teoria delle frustrazioni indotte cioè in qualche maniera provochiamola qualche frustrazione no? e mettiamo i bambini nelle condizioni di vivere la frustrazione soffrire la frustrazione cercare la soluzione trovare la soluzione e in questa maniera accade qualcosa di fondamentale per il benessere dei bambini se nutri l'autostima ce l'ho fatta so forte ce la posso fare le frustrazioni sono una grossa opportunità dobbiamo accompagnare i bambini con fiducia non rinunciamo mai a dargli il messaggio se può fare ce la puoi fare prova c'è te ok? e oltre alla comunicazione verbale c'è sta pure tutta un'altra serie di comunicazione cioè se io vedo mio figlio che cade ok? e me lancio con una faccia disperata io sto comunicando un sacco di roba ok? ecco mi riferisco a quel tipo di comunicazione le frustrazioni sono importanti i bambini li devono vivere purché non siano perenni traumatiche accompagnate da adulti che nutrano sincera fiducia nelle loro possibilità e questo molto spesso è collegato alla poca fiducia che abbiamo in noi stessi ok? e quindi anche qui è un altro degli aspetti che ci spinge sempre e continuamente a fare un lavoro di auto-educazione quindi accompagniamoli con fiducia e stiamo lì a sottolineare no? quando ci riescono con lo sguardo già hai fatta quindi quindi le frustrazioni sono una cosa molto importante un'altra cosa altrettanto importante e passiamo all'altro eccesso no? io sono un po' democristiano da questo punto di vista penso sempre che la verità sta come dice il mio amico River del barrio 23 de Canero de Caracas in qualche lugar del medio e in questo momento noi viviamo una situazione in cui ci stanno due fuori dalla parte l'iperprotezione e dalla parte l'eccessivo come dire autoritarismo non posso fare niente questo limite troppo stretto e vi vorrei parlare del limite il limite troppo stretto soffoca il bambino il bambino che vive in un ambiente questo non si può toccare questo non si può fare quest'altro non è pericoloso quest'altro non sta attento quest'altro mamma ce n'è tanto non si può toccare è un bambino che viene soffocato ok? quindi dobbiamo cercare che fa vivere i bambini in contesti in cui tutta stasera e te no non diventano in qualche maniera ripetitivi ossessivi ok? quindi gli troppi no non vanno bene ma il no è fondamentale il limite è fondamentale per un bambino è veramente centrale perché? perché il bambino passa dalla fase della costruzione dell'identità si apre alla socialità a sto mondo va a sto e c'ha bisogno di un limite altrimenti per lui è troppo difficile da gestire questa situazione qua allora il limite innanzitutto certifica la nostra presenza la nostra partecipazione amore oltre qua non devi andare e questo oltre è rappresentato il limite è rappresentato almeno nella nostra idea di educazione e tu puoi fare tutto quello che ti pare e viva la libertà purché non stai vedendo il tuo interesse individuale o non stai a fare male a te stesso o stai a fare male a qualcun altro lì io ponendo il limite ti sto rispondendo al tuo bisogno perché ti sto spiegando come funziona la vita perché noi abbiamo bisogno degli altri per essere felici e quando io mi immergo nella socialità ti devo subito comunicare attraverso il limite che il tuo interesse e la tua libertà ha come frontiera la libertà degli altri allora io ti devo porre questo limite i bambini hanno bisogno del limite vi consiglio un libro molto bello di Asha Phillips che si chiama i no che aiutano a crescere e qui sono i due antipodi da parte l'autoritarismo dalla parte le famiglie o gli educatori che fanno un'enorme fatica di no e fanno un'enorme fatica perché un po' diciamocelo guardiamoci negli occhi della telecamera ci sentiamo un po' in colpa perché gran parte di noi siamo costretti a lavorare a lavorare per tanto tempo quando torniamo a casa il desiderio più grande che vogliamo è vedere il sorriso dei nostri bambini e facciamo fatica a mettere il limite perché quando mettiamo il limite la reazione iniziale del bambino potrebbe essere quella di manifestare un dissenso non essere d'accordo lamentarsene ma non cadiamo nella trappola il limite è un bisogno fondamentale dei bambini dopodiché c'è una maniera giusta di porre il limite allora il limite deve essere fermo fermo non è che oggi ti dico questa cosa la puoi fare e domani no oggi con i ragazzi del corso facciamo l'esempio della tana dell'arte no è un luogo dove ci stanno dei materiali tartrapana sega sono tutti materiali che fanno sì che sia saggio in quell'ambiente e non correre perché se io corro in quell'ambiente è un ambiente che diventa eccessivamente rischioso e pericoloso quindi se io corro in quell'ambiente non mi sta prendendo cura né di me stesso perché mi posso far male né degli altri perché in un incidente possono coinvolgere gli altri quindi il limite è quando puoi correre ho in tanti posti qui piccola polis ma in tana dell'arte non si può correre ora se io oggi che è mercoledì dico ai bambini amore qui non si può correre perché ci stanno delle cose pericolose e ti potresti far male giovedì gli dico così ma venerdì invece faccio fatica a mettere il limite e gli dico vabbè dai fate una corsetta cioè no il limite deve essere fermo questa è una cosa importante se no il limite non è credibile il bambino non lo interiorizza oltre ad essere fermo deve essere coerente nel senso che se io dico ai bambini i bambini in tana dell'arte non si corre e glielo dico mentre corro all'interno della tana dell'arte e non è credibile e poi deve essere coerente anche da un altro punto di vista i diversi attori mamma e papà i diversi colleghi devono dare lo stesso messaggio perché se Paolo gli dice che non si corre in tana dell'arte e Simone gli dice correte in tana dell'arte il bambino non interiorizzerà questo limite quindi deve essere fermo deve essere coerente e l'altra cosa secondo me particolarmente importante è l'emozione con cui veicoliamo il limite perché se noi lo veicoliamo con emozione come la rabbia che ha un impatto molto forte è molto invadente quando noi ci incontriamo con una persona arrabbiata quando la rabbia ci travolge ci arriva addosso stessa cosa arriva ai bambini quando noi nel porre il limite glielo poniamo con un'eccessiva rabbia ai bambini gli arriva la rabbia non gli arriva il limite quindi il limite è saggio metterlo con un'emozione neutra come la serenità la tranquillità e se noi non ci sentiamo pronti a mantenere questa tranquillità è il classico esempio in cui è il gruppo a poter neutralizzare i vizi e le difficoltà del singolo in quel caso se fa un passo indietro e ci penserà qualcun altro e questo per quanto riguarda il limite altra cosa importante l'ultima cosa del secondo livello è il gioco libero il gioco libero ha una funzione incredibile particolarmente in quest'epoca qua in cui i bambini alcuni di loro poveracci non hanno più tempo per annoiarsi ci hanno tutte le giornate tutte iperstrutturate e allora non vivono mai questa possibilità il gioco libero è prezioso per tantissimi motivi permette di elaborare situazioni traumatiche sviluppare abilità relazionali emotive e cognitive tutto questo avviene attraverso il gioco libero avviene attraverso la dinamica ok io non ho una proposta strutturata me annoio devo attivare la mia immaginazione la mia creatività mi trovo una bella soluzione e contemporaneamente sto nutriendo anche la mia autostima quindi il gioco libero deve essere fondamentale dobbiamo creare le condizioni affinché i bambini possano vivere questo tempo prezioso un tempo senza proposte in cui attraverso il gioco libero possano superare situazioni traumatiche rivisitare esperienze emotive sviluppare competenze cognitive sviluppare esperienze relazionali è un luogo è uno spazio questo del gioco libero è un tempo veramente particolarmente prezioso nel terzo e penultimo grado della scala della piramide Lucas Malaisi le chiama Ideas Empoderadoras che sono come dire le idee che potenziano io lo sintetizzo nel cerchiamo di dare sempre ai bambini il messaggio ce la puoi fare di nutrire fiducia in lui hanno un assoluto bisogno di persone che nutrano fiducia che gli comunichino ce lo puoi fare non solo verbalmente ma anche permettendogli di vivere delle frustrazioni e lasciandogli la possibilità il privilegio di poter superare autonomamente un problema quello che non va assolutamente bene è il genitore che taglia le ali ai bambini che gli dice che nottenza hai portato pa matematica sei proprio un disastro o comunicazioni orribili di questo senso queste sono cose che fanno tanto male al bambino perché il bambino come ci spiega molto bene Galimberti Umberto Galimberti costruisce l'identità dice Galimberti è un dono della socialità cioè il bambino costruisce l'identità anche attraverso lo sguardo l'opinione che hanno gli adulti e le persone intorno a lui in particolar modo i genitori in questa fase qua quindi sono assolutamente da evitare frasi di questo genere non sei capace non ce la puoi fare perché gli tagliano proprio le ali l'altra cosa importante è permettere ai bambini di avere un ruolo attivo nella cura di quella che è la vita della comunità della comunità a casa della comunità a scuola cioè che non vuol dire che dovete far lavorare ai bambini eh fai ad imbrac cartellino però cercateli di coinvolgerli eh sparecchiamo insieme apparecchiamo insieme portiamo insieme gli scarti agli animali eh insomma questo è importante perché i bambini così si sentono dentro una comunità ok non si crea dipendenza si facilita autonomia alla fine nell'ultima scala c'è una parola proibita un po' come amore e si chiama piacere fate vive esperienze piacevoli più possibile bambini perché quando noi viviamo esperienze piacevoli il nostro cervello funziona benissimo lo scoprirete adesso nel modulo di neuroeducazione quando parleremo della serotonina e del flusso ed è importante per la sua autostima per il suo godimento la vita è bella e bisogna godersela mettiamo nelle condizioni i bambini di fare esperienze piacevoli quindi rinunciamo l'altro giorno sentivo un discorso sul treno che mi sono cascate le braccia eppure un'altra cosa che non posso dire di un papà che per telefono a distanza di chissà quanti chilometri costringeva il figlio a fare confu mentre il figlio voleva far calcio è veramente una follia secondo me questa qua però ecco preoccupatevi di far sì che i bambini facciano esperienze piacevoli e ora per fare una metafora tra la piramide nutrizionale alimentare e quella emotiva in quella alimentare nei piani bassi ci stanno quelle sostanze tanto importanti le proteine le vitamine e solo nell'ultimo piano della piramide ci stanno le caramelle un po' poche di caramelle non trovo cioè per dire il piacere è fondamentale importante ma se prima non abbiamo attraversato le altre tappe della piramide non fa tanto bene nel piacere e nelle caramelle il piacere da sole le caramelle da sole fanno male deve essere accompagnate da queste cose qui troppo spesso in alcuni ambiti si parla solo come dire dei diritti dei bambini e io so la persona più felice del mondo ma uno dei diritti dei bambini fondamentali è quello di essere trattati con rispetto ok e quindi non pensiamo che non siano in grado di aiutare a casa di vivere frustrazioni sono tra virgolette possiamo vederli come doveri dei bambini però doveri dei quei loro hanno bisogno a presto buona serata